E' sufficiente provare, provare a salire su un treno, arrivare a destinazione e trovarsi di fronte ad un impianto di risalita. Una novità che è realtà in provincia di Bolzano, uno dei pochi esempi nell'arco alpino. Lo ha verificato di persona l'assessore alla mobilità della provincia di Bolzano Thomas Widman. Siamo in Val Pusteria per la precisione alla stazione ferroviaria di Perca. Da qui si può accedere agli impianti di risalita del comprensorio di Plan de Corones. L'introduzione del cadenzamento mezzorario ha completato un'offerta già ai massimi livelli. A questo progetto aveva tanta gente che non era molto contraria, anche c'erano delle polemiche proprio profonde. Io sono molto contento che tutti quelli che dovevano decidere stavano dietro questo progetto e l'abbiamo realizzato assieme. E se vediamo questo il successo, tuttora nell'anno scorso, mille persone al giorno, nelle giornate di punta, con un cadenzamento orario. Adesso con un cadenzamento mezzorario e poi il prossimo anno, anche con tutti i treni moderni, sarà veramente un successo. E questo ce lo dice perché abbiamo già visto delle delegazioni da tutte le varie destinazioni del mondo, turistiche, che veramente ci invidiano per questo progetto. E questo progetto è solo l'inizio perché abbiamo installato questo progetto per poter entrare col treno, con la mobilità sostenibile in questi resorci istitici, qua il Plan dei Corones, ma stiamo costruendo anche a Fergiaco una stazione per accedere all'Elmo e dopo sicuramente il comune di Rio di Pusteria, anche il comune di Bressanone stanno putando su una funivia che collega le stesse stazioni del treno con il resorci istitico. E questo penso è un progetto unico in tutto l'arco alpino e questo è un vantaggio anche per il futuro. La stazione ferroviaria di Perca non si limita ad essere semplice il luogo di transito dove scendere da un treno e dove attendere un altro convoglio. Qui, grazie al collegamento con gli impianti di risalita, i servizi per l'utenza rappresentano una vera e propria eccellenza. Insieme al concetto di questo collegamento diretto c'è bisogno di un'infrastruttura adatta, cioè per prima cosa un deposito sci in modo affinché i nostri ospiti possano arrivare a utilizzare il treno senza doversi portare tutta l'attrezzatura e in secondo luogo poi anche un servizio di noleggio e di preparazione dell'attrezzatura in modo affinché sempre l'ospite possa venire senza l'attrezzatura, possa noleggiare direttamente sul posto e quindi tornarsene a casa senza dover portarsi dietro l'equipaggiamento. Per completare l'offerta ovviamente, per esempio se qualcuno deve aspettare il treno, può benissimo andarsi a bere un caffè o a mangiarsi un boccone. Il treno arriverà da quest'anno ogni mezz'ora, giorni feriali e festivi. La stazione di Perca non è certo la classica eccezione. L'impegno da parte della provincia con il suo assessorato alla mobilità interessa tutte le tratte del trasporto pubblico locale e le stazioni ad esempio sono coinvolte in un ampio processo di rinnovamento. Cent'anni fa si andava in stazione per aspettare anche delle ore e la gente che perveniva da lontano doveva stare là con le valigie ad aspettare. Oramai il cadenzamento è perfetto, il collegamento è perfetto, allora la gente non rimane più a lungo tempo nelle stazioni ma delle volte è punto anche d'incontro, ci sono dei bar, c'è anche un progetto stazione sci, stazione anche con collegamenti turistici, tutto quanto. Già durante la scorsa stagione invernale molti turisti hanno apprezzato l'unione treno-ski. Quest'anno con le importanti novità introdotte l'auspicio è quello di assistere alla nascita di un nuovo approccio al concetto di mobilità e turismo.